per brindare al nuovo anno abbiamo trovato e testato uno sfumante prodotto da valdo che un'azienda del veneto ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro test il tappo e l'etichetta sono quelli solitamente utilizzati per gli spumanti nello specifico il tappo non presenta muffe o segni di alterazioni appena versato troviamo un ottimo perlage molto persistente nel tempo all'interno del bicchiere che conferma l'ottima qualità di questo prodotto la colorazione è un corretto giallo paglierino quindi escludiamo problemi ossidativi il vino base che è stato utilizzato per ottenere questo prosecco veneto è di buona qualità infatti dopo pochi secondi che il prodotto è stato versato nel bicchiere è possibile apprezzare gli aromi fruttati e nello specifico frutta bianca e a tratti frutta esotica l'effervescenza non è fastidiosa la freschezza è piacevole in bocca la sensazione vellutata che conferisce questo prosecco è notevole nonostante sia secco rimane una leggera nota dolce che sicuramente non stona le buone sensazioni percepite bene siamo arrivati alla fine della nostra recensione vi auguriamo un buon anno e One Food Rec ritornerà il prossimo anno con tante nuove recensioni mi raccomando seguiteci ciao